Bene, esistono molte sostanze, sia inorganiche che inorganiche, che corrispondono alla struttura X, dove X può essere un metallo o un non metallo, O, H, O è l'ossigeno e H è l'idrogeno, per esempio abbiamo idrossidi, abbiamo idrossidi, abbiamo la stessa acqua, dove X sarebbe l'idrogeno, abbiamo composti del carbonio, quindi abbiamo il carbonio, l'ossigeno e l'idrogeno, e in questa categoria abbiamo diversi tipi di composti organici, come comunemente gli alcoli, ma anche gli acidi carbossilici, i fenoli, alcuni di questi composti, in particolare acidi carbossilici e fenoli, sono abbastanza acidi, abbiamo poi la categoria degli ossi acidi, quindi se X è un non metallo, continuiamo a chiamarlo X, perché questo non metallo potrebbe essere lo zolfo, oppure l'azoto, oppure il cloro, il bromo, un halogeno, e quindi abbiamo non metalli, non metalli e quindi ossi acidi. Come esempio di ossi acidi possiamo prendere per esempio l'acido ipocloroso, quindi cl, legato all'ossigeno e legato all'idrogeno, anche se la formula viene scritta HClO, è l'ossigeno l'elemento che si trova al centro, perché diciamo in qualche modo rispetta la nostra regola, che la funzione, il ruolo di elemento centrale di solito è svolta dall'atomo che possiede più elettroni spagliati, quindi in questo caso l'ossigeno che ne ha due, mentre sia l'idrogeno che il cloro ne avrebbero solo uno, prima di combinarsi e formare questa struttura molecolare. questa struttura base vale non solo per questo ossiacido, ma praticamente per tutti gli ossiacidi, con un'unica eccezione rappresentata dall'acido fosforoso, che esiste in due versioni, una in cui l'idrogeno è legato direttamente al fosforo, andiamo a disegnare uno dei tre idrogeni legato al fosforo e quindi non ha comportamento acido, lo vedremo in seguito, perché solo gli idrogeni legati all'ossigeno o direttamente al non metallo, come nel caso degli idracidi, sono acidi. e poi c'è l'altro ossigeno, lo mettiamo da quest'altra parte, facciamo un legame con separazione di cariche, quindi questo è rimasto positivo, questo è negativo, oppure se vogliamo lo chiamiamo legame dativo, ma vedremo dopo questa faccenda dei legami dativi. e comunque questa struttura dell'acido fosforoso è praticamente in equilibrio con quest'altra, che invece rispetta la norma, diciamo, di tutti gli altri ossiacidi, in cui cioè gli idrogeni sono legati agli atomi di ossigeno. Quindi qui c'è una coppia che nel caso precedente è stata utilizzata per fare il legame con l'ossigeno, e quindi in questo caso invece abbiamo tre gruppi OH. Quindi tutti gli ossiacidi, a parte questa eccezione, rispettano la regola in cui gli idrogeni sono legati, gli idrogeni acidi perlomeno sono legati sempre all'ossigeno. Possiamo avere anche un altro caso, per esempio i composti del boro, c'è un criterio nel modo in cui ho scritto questa sequenza di composti, l'idrossidi in alto, l'acqua in questa posizione, quindi il boro lo mettiamo qui, quindi se abbiamo il boro legato a ossigeno e idrogeno, come ad esempio nell'acido borico, chiamato acido borico, formula H3BO3, in questo caso abbiamo una sostanza acida, che però a differenza degli altri ossiacidi, non cede protoni, cioè non si dissocia cedendo protoni ad una base, l'acido borico è un acido di Lewis, perché a differenza del fosforo che ha qui una coppia elettronica, il boro non ce l'ha e quindi questa sostanza si comporta ad acido semplicemente perché cattura un gruppo OH, un quarto gruppo OH, per esempio da una molecola d'acqua, quindi qui ci sommiamo una molecola d'acqua e il risultato è che si forma il composto B con attaccati quattro gruppi OH e un meno l'agnone tetra borato, mentre l'H+, diciamo, viene ceduto a un'altra molecola d'acqua, quindi ce ne vuoi uno e due e diventa H3O+. Quindi si formano ioni idronio H3O+, ma non perché viene ceduto uno di questi idrogeni legato all'ossigeno, ma semplicemente perché questo si comporta da acido di Lewis, quindi vediamo la reazione tra la base di Lewis acqua e l'acido di Lewis boro, qui si forma un addotto di Lewis e nello stesso tempo viene liberato uno ione idrogeno ecceduto a qualche altra base o a un'altra molecola d'acqua. Quindi, perché sono in questa sequenza? Gli idrossidi, prendiamo un esempio, anche per gli idrossidi un esempio concreto, l'abbiamo fatto per gli altri, un esempio concreto potrebbe essere l'idrossido di litio, come abbiamo visto oggi a scuola. Allora, diciamo che in generale in tutti questi composti il legame tra ossigeno e idrogeno è sempre covalente, quindi qui lo possiamo tranquillamente segnare covalente come abbiamo fatto in tutti gli altri. Il legame invece tra l'elemento X, lo facciamo anche qui, questo legame è sempre covalente, chiaramente potrà essere più o meno polare, ma comunque sempre covalente. Il legame tra X e O invece dipenderà da che cosa è X, se X è il litio, se X è il boro, l'idrogeno, il carbonio o un elemento fortemente elettronegativo, non metallo. Quindi abbiamo capito che quello che conta qui, la parola chiave è elettronegatività dell'elemento X. Se X è un elemento poco elettronegativo, come il litio, quindi diciamo pure elettropositivo, avremo la tendenza di questo elemento a cedere gli elettroni all'ossigeno, che invece è molto elettronegativo e quindi questi due elettroni saranno uno dell'ossigeno, l'altro ceduto dal litio, che sarà diventato uno ione positivo. Quindi qui abbiamo un legame ionico tra X e OH. Quindi questo legame può essere ionico o covalente molto polare oppure potrebbe essere anche in questo caso covalente, come nel caso del carbonio con l'ossigeno oppure dell'idrogeno con l'ossigeno, nel caso dell'acqua. Quindi ionico o covalente. Ecco, quindi questo determinerà la differenza di comportamento di questi composti. Se il legame sarà ionico, noi avremo la formazione qui di un ione negativo, di un ione idrossido, e quindi questo ione idrossido sappiamo che si comporterà come base di Bronsted. e quindi sappiamo infatti che gli idrossidi sono sostanze, anzi sono specie basiche. Se parliamo di sostanza, dobbiamo dire idrossido, di litio, di sodio, di potassio, di calcio, eccetera. Se parliamo soltanto dell'ione idrossido isolatamente, che esiste in soluzione a cosa, per esempio, o anche allo stato solido, allora ci stiamo riferendo alla basicità di una specie idrossido. Non esiste una sostanza costituita esclusivamente da ioni idrossido. Quindi, come ci riferiamo all'idrossido e basta? Non ci possiamo riferire all'idrossido e basta come a una sostanza, ma come a una specie, una specie chimica, evidentemente. Quindi abbiamo liquidato gli idrossidi. Quando l'elemento è un metallo, specialmente se è molto elettropositivo, come gli elementi del blocco S, litio, sodio, potassio, calcio e così via, avremo sicuramente un carattere ionico di questo legame e quindi una separazione di cariche. Se l'elemento invece ha elettronegatività intermedia, come nel caso del boro, dell'idrogeno e del carbonio, allora avremo un altro legame covalente anche tra l'elemento X e l'ossigeno. E allora come si comporterà questa sostanza o questa specie che ha queste caratteristiche? In questo caso potrebbe essere, come abbiamo già visto nel caso del boro, tutti e due i legami sono poco polari, sono poco polari e quindi non tende a dissociarsi facilmente. Però nel caso del boro c'è la questione che è un acido di luce, nel caso dell'acqua no, perché questo ossigeno ha due coppie e quindi questo non si comporta da acido di luce. Sappiamo che l'acqua si comporta da acido debolissimo. Si comporta da acido debolissimo perché c'è una piccola tendenza senza accedere a questi protoni in presenza di una base, una base sufficientemente forte, può prendersi questo protone e lasciare quindi uno ione OH-. Questo ione OH- ora non è più acido anche se c'è un altro idrogeno attaccato all'ossigeno. Come mai? Come mai? Semplice, l'ossigeno che ora è diventato parzialmente carico negativamente, non è più elettronegativo come lo era quando stava nell'acqua. Quindi l'ione idrossido non ha la stessa tendenza a cedere protoni così come ce l'aveva l'acqua originariamente. E quindi stiamo introducendo un nuovo concetto, una novità. La novità consiste nel fatto che l'elettronegatività di un atomo in una struttura ione o molecola o qualsiasi cosa non è la costante che sta scritta sulla tavola periodica. Nella tavola periodica abbiamo che l'elettronegatività dell'ossigeno è circa 3,5 ma questa si tratta in realtà di una media che forse potrà andare abbastanza bene per l'ossigeno dell'acqua ma sicuramente l'ossigeno dell'ione idrossido avrà un'elettronegatività di circa 0 perché essendo diventato già abbastanza negativo avendo un elettrone praticamente in più di conseguenza non avrà nessuna tendenza ad attrarre gli elettroni di legame come invece fa questo ossigeno l'ossigeno dell'acqua ha tendenza ad attrarre gli elettroni del legame OH e quindi lasciare l'idrogeno parzialmente positivo questo simbolo delta indica una parziale positività e invece l'ossigeno dell'idrossido non ha questa tendenza ora è possibile ionizzare anche questo secondo idrogeno ma ci vogliono basi estremamente forti quindi se io prendo una super base super base con un super doppietto elettronico potrebbe anche riuscire a catturare questo ione idrogeno e lasciare uno ione mi lascio uno ione che ci ritroviamo adesso senza legami e quattro coppie elettroniche quindi uno ione isoelettronico del neon con doppia carica negativa questo ione si chiama ione ossido dove abbiamo visto l'ione ossido lo abbiamo visto al bienio quando sapevamo che gli ossidi dei metalli cioè quelli che effettivamente possono contenere l'ione ossido ad esempio non so l'ossido di calcio che è un composto rettamente ionico e quindi qui abbiamo ioni Ca2+, e ioni ossigeno 2- quando si mettono gli ossidi in acqua sappiamo che quello che succede è una reazione acido-base cioè è una reazione in cui noi sapevamo semplicemente che si forma l'idrossido di calcio quindi si forma Ca che è rimasto sempre un ione positivo ma non abbiamo più l'ione ossido ma l'ione idrossido ci vogliono due ioni idrossido e quindi scriviamo la struttura dell'idrossido di calcio in questa maniera la formula viene semplicemente scritta Ca o H preso due volte questa è una reazione reale cioè se mettiamo la calce cosiddetta viva in acqua è un solido quello che si ottiene è un latte di calcio cioè una sospensione in cui una parte dell'idrossido di calcio è sciolto ed è responsabile della forte basicità di questa soluzione e una parte di questo idrossido di calcio invece rimane allo stato solido quindi ci mettiamo tutte e due solido e in soluzione a cose in realtà questa è la reazione che ci dice soltanto le formule dei reagenti e dei prodotti però adesso la possiamo vedere alla luce del modello acido base di Bronsted quello che ha reagito non è certo l'ione calcio che è uno ione spettatore si chiamano così gli ioni che o qualsiasi specie che non prende parte in realtà non viene modificata dalla reazione chimica quello che invece è stato modificato dalla reazione chimica è l'ione ossido l'ione ossido che prima era o meno meno reagisce con l'acqua e forma in questa reazione cosa succede? che una coppia elettronica dell'ione ossido che è una base fortissima molto più forte dell'ione idrossido chiaramente prende un ione idrogeno dall'acqua e per tutto il risultato abbiamo che l'ione ossido diventa un ione idrossido mentre l'acqua ugualmente diventa un ione idrossido quindi qui diciamo che è rimasto un HO meno quindi in pratica si sono formati due ioni idrossido identici ma li scriviamo separatamente per mettere in evidenza lo schema delle reazioni di Bronsted nelle reazioni acido-base di Bronsted o trasferimento protonico o scambio protonico abbiamo sempre una base in questo caso qui la chiamiamo B1 i numeri li possiamo scegliere a caso potevo mettere anche due e quest'altra invece è una specie diversa e quindi la chiamiamo col 2 e siccome si sta comportando da acido perché cede il protone e quindi ci scrivo che è l'acido di Bronsted la specie B1 si è trasformata da basica nel corrispondente acido coniugato quindi sarà l'acido 1 quindi mettiamo A1 la coppia coniugata ossido idrossido anche la A2 si è trasformata nella sua invece base coniugata quindi vediamo che lo stesso ion idrossido è una base coniugata rispetto all'acqua ma è un acido coniugato rispetto all'ione ossido quindi queste frecce rosse collegano le coppie coniugate quindi tutte le reazioni acido base di Bronsted prevedono la formazione di un acido e di una base coniugate a partire dalla 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 base e dall'acido coniugati riprendiamo il discorso all'acido cloroso dagli ossiacidi in generale quindi se X è un non metallo come il cloro per esempio noi abbiamo ossiacidi questo che significa che qui c'è X è un elemento abbastanza elettronegativo quindi abbiamo due elementi elettronegativi l'idrogeno e l'ossigeno e questi elettroni saranno attirati quelli del legame ossigeno-idrogeno saranno attirati verso l'ossigeno cioè l'elettronegatività combinata di questi due atomi sicuramente renderà questo legame abbastanza polare da avere un acido mediamente forte o addirittura un acido forte cioè completamente ionizzato in acqua quindi nel caso dell'acido ipocloroso per esempio a proposito dobbiamo vedere la geometria la geometria avendo due legami e due colpi elettroni che sarà come quella dell'acqua quindi una forma angolare così piegata per quanto riguarda l'acidità l'acido ipocloroso è un acido piuttosto debole più forte dell'acqua ma comunque tra gli acidi diciamo tra i più deboli però il cloro forma tutta una serie di acidi quattro acidi o quattro ossi acidi in cui utilizza anche queste coppie elettroniche per legare altri atomi di ossigeno quindi può legare fino a un massimo di altri tre atomi di ossigeno quattro in tutto perché uno già ce l'ha nell'ipocloroso e quindi passiamo al secondo acido del cloro ossia acido del cloro l'acido cloroso quindi dobbiamo semplicemente qui sistemarci un altro ossigeno lo mettiamo per esempio qui anzi facciamo le frecce al contrario e noi diciamo siamo abituati a dire qui si forma un legame dativo e dobbiamo cominciare a precisare qualcosa cioè questa trasformazione è semplicemente l'aggiunta di un altro ossigeno perché vogliamo arrivare a una struttura avente formula HClO2 quella che abbiamo appena fatto non è la formazione di un legame dativo ma in realtà dal punto di vista chimico o di reazione chimica non c'è nessuna reazione tra un atomo di ossigeno e un atomo di cloro o almeno potrebbe anche esserci ma non necessariamente il nostro obiettivo adesso è disegnare una struttura plausibile per l'acido ipocloroso per l'acido cloroso cloroso quindi una volta che abbiamo messo quest'altro ossigeno noi abbiamo ottenuto il nostro scopo il nostro scopo era semplicemente di disegnare la struttura allora la facciamo qui mettiamo ho illustrato come viene fuori però possiamo semplicemente ripeterla qua sotto dove c'è più spazio quindi mettiamo il cloro con il legame O con l'OH e un altro ossigeno e le altre coppie elettroniche adesso le andiamo a rimettere come stavano prima quindi questo ossigeno adesso acquistato un elettrone in più è diventato formalmente negativo e questo cloro che invece si ritrova con 6 elettroni e se raggiunge l'ottetto perché nello strato di valenza anche questi due adesso è formalmente positivo e questo acido già è un po' più forte dell'ipocloroso che cosa è successo è successo che l'elettronegatività del cloro ricordiamo precedentemente abbiamo visto l'ossigeno che può essere molto elettronegativo o per niente elettronegativo nel caso del cloro avendo acquisito una carica formale più 1 ma anche una carica reale anche se non più 1 magari sarà 0,2 o 0,3 però una carica maggiormente positiva rispetto al cloro dell'acido ipocloroso perché ora il cloro sta legato a due atomi di ossigeno i quali entrambi sottraggono elettroni al cloro in quanto l'ossigeno è più elettronegativo del cloro questa condizione di positività parziale del cloro si riflette anche sul legame OH rendendolo se ci sono gli elettroni che vanno in questa direzione allora anche qui gli elettroni tenderanno maggiormente ad andare verso l'ossigeno quindi questo idrogeno sarà più fortemente polarizzato positivamente si dice anche deschermato perché la nube elettronica che normalmente si trova intorno al protone dell'atomo di idrogeno in questo caso è un po' più risucchiata verso l'ossigeno e quindi questo protone rimane parzialmente scoperto parzialmente scoperto significa propenso a ionizzarsi in questo caso invece avevamo soltanto una piccola polarità positiva e quindi poca tendenza a cedere il protone dell'acido ipoclutoso se mettiamo un terzo ossigeno e quindi facciamo la struttura dell'acido clorico l'altro ossigeno lo mettiamo qua a sinistra ad esempio così mettiamo il cloro è rimasto con una sola coppia elettronica ancora utilizzabile e anche in questo caso avremo una carica formale negativa sui due atomi di ossigeno mentre questo è formalmente neutro e quindi abbiamo la formula H Cl O3 che corrisponde ricordiamoci sempre che l'idrogeno non è attaccato al cloro solo perché è scritto vicino al cloro nella formula diciamo molecolare o bruta l'idrogeno è sempre legato all'ossigeno qui abbiamo il clorico e mettiamo gli elettroni le cariche e tutto quanto come abbiamo fatto sempre abbiamo una carica formale negativa una carica tre coppie e un legame una carica formale negativa tre coppie e un legame e qui ora le cariche formali del cloro sono andate a due e la carica reale sarà aumentata rispetto a prima quindi qui avremo un legame maggiormente polarizzato maggiormente polarizzato il che significherà che anche questo idrogeno qua è maggiormente polarizzato positivamente quindi mettiamo un delta con tre più e l'acido clorico praticamente è quasi un acido forte e questo è il risultato mancano un po' di coppie siamo anche qua ecco e quindi abbiamo raggiunto un'elevata elettronegatività di questo cloro centrale quindi possiamo scrivere così possiamo scrivere quindi un'elettronegatività crescente di questo atomo di cloro centrale con l'aumentare della sua carica formale che però corrisponde anche all'aumento della carica vera un atomo di cloro che è sempre più positivo renderà attrarrà sempre di più gli elettroni la ragione della maggiore positività è il fatto di essere circondato da atomi di ossigeno e abbiamo ancora una coppia elettronica libera e con questo possiamo anche avere una struttura che contiene quindi quattro atomi di ossigeno chiaramente sarà tetraedrica mentre la terza quella dell'acido clorico era piramidale quindi comunque la disegniamo così è importante sapere che è tetraedrica e mettiamo tutti gli ossigeni sono diventati quattro il massimo e quindi abbiamo l'acido quanto riguarda la nomenclatura siamo arrivati al massimo e quindi cloroso e clorico sono la nomenclatura di quando ci sono soltanto due acidi quello più ossigenato finisce con ico quello meno ossigenato finisce con oso se ce n'è un altro che è ancora meno ossigenato allora dobbiamo aggiungere il prefisso ipo se ce n'è un altro invece più ossigenato come in questo caso dobbiamo aggiungere il prefisso per quindi stiamo parlando adesso dell'acido per clorico dove l'elettronegatività del cloro sarà arrivata qui ci manca una L sarà arrivata a un valore molto elevato così come la sua carica la sua carica positiva qui mettiamo tre cariche positive formali magari ce ne saranno due vere o una è un quarto vera non lo sappiamo comunque sicuramente questa carica positiva è andata aumentando con l'aumentare del numero di ossigeni attaccati il risultato è che questo idrogeno ora è estremamente polarizzato e quindi abbiamo un acido forte molto forte completamente ionizzato in acqua la sua costante di acidità è praticamente un numero 10 alla un numero molto grande quindi scriviamo la formula che sarà chiaramente HClO4 e il nome come dicevo sarà perclorico dobbiamo aggiungere il prefisso perclorico sottolineiamo come abbiamo già fatto prima questo è quello che abbiamo dovuto aggiungere per l'ossigeno in più e questo per l'ossigeno in meno la stessa serie si ripete anche con il bromo con lo iorio anche se per lo iorio non sono presenti tutti e quattro gli ossiacidi non sempre le molecole che noi immaginiamo poi esistono nella realtà questa faccenda della realtà è piuttosto importante quindi abbiamo detto che qui non dovremmo parlare di legami dativi che si formano perché oggi sappiamo bene che invece ci sono dei legami dativi che si formano veramente e non sono questi legami dativi che si formano veramente sono quello che abbiamo visto prima per esempio dell'acido borico e si preferisce scrivere in questa maniera perché così si rispecchia maggiormente la struttura rispetto ad H3BO3 questo acido borico è un acido di Lewis e quindi riesce con una base di Lewis quale potrebbe essere un ione idrossido che è una base di Brosted ma è anche una base di Lewis e quindi abbiamo questo attacco la coppia elettronica va a formare un vero legame covalente dativo cioè in questo caso noi abbiamo una provetta che contiene un po' di acido borico una provetta che contiene un po' di idrossido di sodio e il risultato è che si forma veramente un legame cioè qui possiamo mettere un vero più che ci dice che c'è una reazione chimica in atto e mettiamo due sostanze due specie che si combinano realmente quindi qui ha senso volendo parlare di legame dativo che si forma anche se poi alla fine questo legame che si è formato non è diverso dagli altri che c'erano già da prima quindi abbiamo un bel tetraedro regolare dove gli ioni OH adesso sono diventati quattro e quindi complessivamente tutta questa cosa ha una carica reale negativa che non sta soltanto sul sul boro anzi starà sicuramente e preferibilmente sull'ossigeno visto che l'ossigeno è ben più elettronegativo del boro quindi questo è un esempio di reazione di acido base di Lewis in cui contrariamente a quelle di Bronsted non si formano due specie ma solo una che viene chiamata addotto di Lewis l'altra un'altra reazione tipica che forse avrete già visto è quella tipica che troviamo in tutti i libri tra ammoniaca quindi azoto struttura piramidale legato quindi a tre idrogeni con una coppia elettronica e il bf3 invece struttura triangolare planare perché il boro non ha nessuna coppia elettronica ci sono questi tre atomi di fluoro che rendono questo boro non soltanto c'è un orbitale vuoto ma in più c'è anche il fatto che è reso positivo dalla trazione del fuoro per gli elettroni quindi questo è un fortissimo elettrofilo che subirà l'attacco di questo nucleofilo cambiamo colore come abbiamo fatto prima il giallo subirà questo attacco tra l'acido di Lewis a destra e la base di Lewis a sinistra si formerà quindi l'addotto di Lewis anche in questo caso che rappresenteremo così come per semplicità scriviamo H3N legame quando l'azoto ha quattro legami viene rappresentato con una carica positiva formale e così come il boro quando ha quattro legami anziché tre adesso è diventato un tetraedro distorto viene rappresentato con una carica formale negativa questo è quello che chiamiamo formazione di legame dativo ma quello che si forma è un legame covalente di fatto quindi qui possiamo parlare di formazione di legami dativi mentre quando attacchiamo atomi di ossigeno all'unico scopo di disegnare delle formule abbiamo disegnato ben tre formule mettendo ossigeno in più non è del tutto corretto parlare di formazione di legami dativi in chimica è importante distinguere tra quello che avviene realmente e quello che diciamo è semplicemente un trucco per scrivere delle formule eccetera un'altra cosa importante va detta a questo punto in chimica organica si presenta molto spesso questa situazione in cui la polarizzazione di un atomo di un legame per esempio questo qui dell'acido cloroso andiamo a cambiare colore ci mettiamo un verde la polarizzazione di un legame qui si propaga anche lungo tutta la catena di legami come una specie di effetto domino quindi come si chiama questo effetto una carica fortemente positiva in una zona della molecola si propaga polarizzando a catena tutti i legami adiacenti quelli che sono più vicini subiscono maggiormente questo effetto quelli che sono più lontani lo subiscono di meno ma comunque l'effetto si propaga lungo la catena questo si chiama effetto induttivo cioè una polarizzazione induce un'altra polarizzazione nei legami vicini rivolta sempre nello stesso verso ogni legame tende a polarizzarsi nello stesso verso se il più sta a sinistra in uno sta a sinistra anche nell'altro e questo qui induttivo e questo è una dei concetti chiave che servono a spiegare in chimica organica le differenze di comportamento tra molecole simili abbiamo un po' tralasciato gli acidi del carbonio cioè i composti X o H dove X è il carbonio forse vale la pena ricordarci che gli acidi carbossilici sono acidi che cosa c'è negli acidi carbossilici c'è il C c'è un OH appunto ma se fosse solo fino a questo punto avremmo un alcol tipicamente in realtà nell'acido carbossilico qui abbiamo anche un gruppo CO C doppio legame O che cosa abbiamo fatto? abbiamo aggiunto un altro atomo di ossigeno quindi una situazione non molto diversa da questa in cui siamo passati dall'acido ipocloroso all'acido cloroso e cosa comporta questa azione? comporta passare a una sostanza che è devolmente acida cioè l'alcol che è più o meno acido come lo è l'acqua quindi molto poco passiamo invece a una cosa che è acida quanto lo è l'acido acetico l'acido acetico in questo caso qui abbiamo un CH3 quindi anche in questo caso l'avere aggiunto un elemento elettronegativo in più ha aumentato la polarizzazione di questo legame OH e quindi abbiamo deschermato questo atomo di ossigeno che sarà ora più propenso a staccarsi rispetto a quello di ad essere ceduto rispetto a quello di un semplice alcol ma a spiegare la maggiore acidità dell'acido acetico rispetto a un alcol non bastano questi effetti induttivi dovuti agli atomi di ossigeno c'è bisogno anche di considerare l'effetto della risonanza come sappiamo quando l'acido acetico si ionizza cioè cede questo plutone ad una base B quello che otteniamo è lo ione acetato e lo ione acetato ha due forme di limite di risonanza queste due che sono esattamente identiche per passare dall'una all'altra possiamo ribaltare questa coppia solitaria a raddoppiare il legame e nello stesso tempo questa coppia di legame che diventa una coppia solitaria sull'ossigeno sopra e quindi otteniamo su questo ossigeno negativo mentre sotto si è formato il doppio legame la cosa la possiamo fare anche al contrario quindi restituiamo il doppio legame e restituiamo qui la coppia solitaria quando le specie le forme limite di risonanza sono molto simili o in questo caso uguali la stabilizzazione energetica ci dà un ibrido di risonanza cioè un ione acetato che è stabilizzato fortemente e questo chiaramente favorisce la ionizzazione del protone praticamente quindi questo ione acetato qui sarebbe la base coniugata dell'acido acetico tutte le volte che c'è una stabilizzazione per risonanza questa conta anche più dell'effetto induttivo quindi questa è la ragione principale per cui l'acido acetico non è devolmente acido come un alcol e come l'acqua ma è un acido di media forza vediamo un altro caso che riguarda sempre il carbonio in cui l'elettronegatività non è quella della tavola periodica ma diversa se noi abbiamo il metano o qualsiasi altro alcano o idrocarburo diciamo dove il carbonio è legato con quattro legami singoli a idrogeno o altri carboni questi atomi di idrogeno non sono per niente deschermati non sono per niente ionizzabili e questo legame può essere considerato praticamente covalente puro e quindi gli idrocarburi hanno un sacco di idrogeni ma non sono affatto acidi se invece modifichiamo la geometria e quindi anche l'ibridazione del carbonio prendiamo per esempio questo sappiamo che è un ibrido sp3 e quindi è per tre quarti p e per un quarto s se invece noi prendiamo un carbonio sp quindi per esempio un carbonio che è legato con un legame triplo a un altro carbonio oppure potrebbe essere legato anche a un atomo d'azoto così in entrambi i casi otteniamo che questo idrogeno qui è stranamente un po' più acido nel caso di HCN sappiamo anche che si chiama acido cianidrico che è un acido debole comunque è un'acidità che si vede già in soluzione apposa che cosa è successo con il legame triplo e con l'ibridazione sp l'ibridazione sp abbiamo 50% s e 50% p e siccome quel 50% s si trova appunto in un diciamo c'è il contributo dell'orbitale s che è più legante per gli elettroni rispetto agli orbitali p diciamo questo carbonio arriva ad avere un'elettronegatività che non è più intorno a 2,5 ma è circa 3 diventa elettronegativo quasi quanto il cloro o l'azoto quindi gli alchini hanno una debolissima debolissima acidità in questo caso gli alchini sarebbero ricomposti col triplo legame carbonio-carbonio se hanno un idrogeno legato a uno di questi carboni questo è devolmente acido occorrono basi più forti dell'idrossido per riuscire a togliere questo idrogeno ma si riesce mentre non si riesce nel caso degli idrogeni degli idrocarburi saturi nel caso dell'acido nitrico cianitrico cioè è ancora più acido quindi questa è un'altra situazione che ci fa vedere che l'elettronegatività dipende dal contesto dall'intorno dagli atomi legali possiamo fare un po' di ripasso della nomenclatura per esempio come si chiamano i sali derivanti da tutti questi acidi che abbiamo visto partiamo proprio dall'acido cianitrico se il nome dell'acido finisce in idrico sappiamo bene che il nome del sale finirà in uro quindi cianuro l'ione negativo ottenuto togliendo il protone dal da questo acido cianitrico sarà mettiamo anche tutte le varie coppie elettroniche legame triplo carbonio si ritrova con una coppia stabilizzata per il fatto che questa coppia si troverà in un orbitale sp quindi ad elevata percentuale di S quindi mettiamo la carica formale sul carbonio ma questa carica in realtà appartiene a tutto lo ione quindi scriviamo Cn meno ione cianuro e non soltanto al carbonio quindi la carica reale è di tutto lo ione sottolineiamo questo uro quindi idrico ci dà uro nel caso degli altri acidi che abbiamo visto precedentemente per esempio il perclorico ci darà l'ione H l'ione cioè ClO4 meno che si chiamerà perclorato se c'era il bromo era perbromato BrO4 meno se c'era lo iodio periodato IO4 meno quindi se finisce con ico allora il sale e l'ione negativo deve finire con ATO perclorato se invece quindi il clorico si chiamerà clorato l'agnone l'ione negativo colorato avrà la formula ClO3 meno se togliamo un ione idrogeno non rimaniamo altro che con una carica negativa e quindi ico ATO medico malato nel caso invece dei nomi che finiscono degli acidi che finiscono con oso i sali devono finire con ITO e quindi avremo clorito quindi il mafioso diventa pentito eccolo qua e la formula qui è ClO2 dell'ione clorito un disinfettante un ossidante come anche l'ipoclorito ipoclorito e anche qui abbiamo il mafioso oso pentito e questa regoletta è abbastanza semplice classifichiamo adesso per concludere gli acidi forti e vediamo sono soltanto 6 gli acidi forti da ricordare però l'abbiamo visto soltanto qui c'era il perclorico li distinguiamo in idracidi e ossiacidi stiamo parlando chiaramente degli acidi inorganici gli idracidi forti sono l'acido cloridrico HCl l'acido bromidrico HBr l'acido iodidrico HI non c'è il fluoridrico perché il fluoridrico forma dei forti legami a idrogeno che riducono diciamo la libertà di cessione dell'idrogeno quindi alla fine ci ritroviamo un acido diciamo un po' più forte dell'acido acetico ma comunque non è un acido forte cioè non è completamente ionizzato siamo ionizzati al 100% tutte le molecole di questi acidi messi in acqua si ionizzano poi abbiamo tre ossiacidi abbastanza comuni abbiamo l'acido nitrico mentre l'acido nitroso è abbastanza forte ma non completamente ionizzato e poi l'acido solforico solo per quanto riguarda la prima ionizzazione la seconda cioè il secondo idrogeno viene a volte considerato forte ma in realtà è solo quasi forte solo quasi completamente ionizzato e poi infine quello che abbiamo già visto cioè l'acido perclorico HClO4 questi sei ce li dobbiamo ricordare per questi sei la costante di ionizzazione è maggiore di quella dell'ione idronio quindi un altro modo per definire un acido forte è quella di dire che l'acido H H A in acqua si ionizza all'equilibrio con una costante quindi si formano gli ioni idronio e si formano gli anioni dell'acido e questa costante deve essere maggiore la chiamiamo KA deve essere maggiore della K di ionizzazione dell'ione idronio e qual è la costante di ionizzazione dell'ione idronio in poche parole l'acido in questione deve essere più forte dell'idronio per essere considerato un acido forte la costante di ionizzazione dell'idronio è analoga a quella di altri acidi normali quindi in questo caso l'idronio cede un protone all'acqua che diventa di nuovo idronio e quello che si forma è la base coniugata dell'idronio che è l'acqua apparentemente questa costante dovrebbe avendo prodotti identici e adiacenti dovrebbe avere K uguale 1 K dell'idronio uguale 1 in realtà questo è sbagliato e che non ci permette di fare il confronto infatti quando scriviamo la K di un acido normale noi scriviamo le concentrazioni dei prodotti al numeratore le concentrazioni che possono essere variabili al numeratore che sono quelle dell'ione H3O più che possono dipendere dalla presenza di altre specie o dalla concentrazione e in tutti i casi la costante il valore di questo rapporto all'equilibrio è praticamente costante prossimativamente costante anche se variano queste altre condizioni quindi concentrazione degli ioni a meno e sotto non si mettono le concentrazioni di tutti e due i reagenti perché la concentrazione dell'acqua è pressoché costante almeno per soluzioni non troppo concentrate con un valore che è di circa 55 questa concentrazione è circa 55 qualcosa 0,4 più o meno molare di conseguenza non si mette questo valore praticamente costante e si mette soltanto il valore della concentrazione della piccola parte di acido che è rimasto non ionizzato nel caso della K dell'idronio per poter fare questo confronto noi dobbiamo seguire lo stesso criterio cioè non indicare la concentrazione dell'acqua nella espressione della costante quindi la K AA dell'idronio sarà uguale a alla concentrazione dei prodotti inclusa la base coniugata perché questa la dobbiamo mettere è solo l'acqua a sinistra che dobbiamo scattare quindi dobbiamo mettere concentrazione dell'idronio per concentrazione dell'acqua che abbiamo visto è 55 qualcosa ci sarebbero le moli che stanno in un chilo d'acqua circa quindi 1000 diviso 18 che fa 55 diviso la concentrazione dell'idronio che si va a semplificare quindi quindi la costante K di dissociazione dell'idronio calcolata come per tutti gli altri acidi non è uguale a 1 ma è uguale alla concentrazione dell'acqua quindi per essere forte per essere forte un acido forte deve avere una K maggiore di 55 questa diciamo è un'altra maniera per definire un acido forte se sarà maggiore di questo magari di 10 volte non di un peletto allora vuol dire che questo acido sarà completamente ionizzato ionizzato al 100% ok e questo è tutto